Una visita ai nonni o ai genitori lo capiamo bene, in questo momento può essere importante perché la solitudine è pesante da mantenere. Dobbiamo limitarle al massimo queste visite e soprattutto dobbiamo farlo se c'è una necessità, per esempio se devo portare la spesa ad un nonno che non può uscire di casa. In queste evenienze, cioè quando è davvero necessario, facciamolo prendendo un po' di precauzioni.